L'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, 70 anni, avvocato, arrestato nel dicembre del 2019 nell'ambito dell'operazione Rinascita Scott condotta dalla DDA di Catanzaro e coinvolto successivamente nell'inchiesta Malapigna della DDA di Reggio Calabria dopo oltre tre anni di detenzione, prima in carcere e poi ai domiciliari, torna libero. Nella prima inchiesta Pittelli è stato accusato di essere stato in rapporti con le cosche di Indrangheta del Vibonese ed il relativo processo a carico dell'ex parlamentare dopo il rinvio a giudizio è in corso davanti al Tribunale di Vibo Valencia nell'aula bunker di La Mezzia Terme. Nel secondo procedimento a Pittelli vengono contestati i presunti rapporti con la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Per quanto riguarda l'inchiesta Rinascita Scott per Pittelli era stata già disposta la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare e dell'obbligo di dimora. L'ex parlamentare era però ancora ai domiciliari in relazione al procedimento Malapigna. È arrivata la pronuncia favorevole per Pittelli anche per questa seconda inchiesta del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, al quale avevano fatto appello i difensori dell'ex parlamentare, gli avvocati Salvatore Stajano, Giandomenico Caiazza e Guido Contestabile, chiedendone di rimetterlo in libertà. Il Tribunale del Riesame, presieduto da Antonino Francesco Genovese, ha accolto la richiesta, disponendo per Pittelli la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di esercitare per un anno la professione di avvocato.